C'era un reparto, lo chiamavano, non so se è giusto il numero, tipo il quinto merda. Significa che quello era un posto dove c'era tutta gente incontinente e che era terrificante, era proprio, immaginati cosa significa persone incontinenti, mal gestite, mal curate, abbandonate a se stesse, lavate con le sistole, cioè, terrificante, proprio un girone dell'inferno.